A due anni di distanza, la città di Rovigo torna ad avere un multisala. Notorious Cinemas, a partire da domani, riaprirà sei delle otto sale per un totale di 1260 posti, con la promessa di aprire le ultime due entro febbraio 2020. Siamo contenti di riportare in città una componente culturale come il cinema, ha detto questa mattina in conferenza stampa Guglielmo Marchetti, presidente di Notorious Cinema. Finalmente, per gustarsi un buon film, non sarà più necessario mettersi al volante per andare nei multisala di Padova o Ferrara. Con tutti i comfort, ci tiene a sottolineare Marchetti, perché per noi, comodità e pulizia per i nostri visitatori sono al primo posto. Vogliamo che possano godersi il grande schermo, ma come se stessero guardando il film a casa loro. Un altro aspetto che ci tengono a sottolineare è che Notorious Cinema ha a cuore l'ambiente. La moquette delle sale e l'ecopelle delle poltrone sono assolutamente green e sostenibili. Non solo, nei 15 minuti che precederanno ogni proiezione, assieme ai trailer verrà anche proiettata una frase motivazionale, con al centro la cura dell'ambiente. È un gesto piccolo e senza pretese, ma speriamo che possa ispirare chi viene al cinema. E poi c'è Grinny, la mascotte amica della terra, tutta dedicata ai più piccoli. Anche l'area ristoro sarà verde. All'interno della struttura, gli alimenti verranno serviti attraverso stoviglie ecosostenibili. Piatti, tovaglioli e contenitori vari saranno in materiale compostabile. Anche le cannucce saranno in plastica riciclabile al 100%. Una particolare attenzione verrà rivolta ai consumatori vegani e vegetariani, con una proposta di prodotti confezionati e dedicati. Alcune caramelle vendute nel bar non conterranno gelatine animali e conservanti. Speciale riguardo, inoltre, ai prodotti salutari, anche per un pubblico più adulto e salutista. E il prezzo dei biglietti? Costeranno 9 euro a prezzo pieno, con le fasce ridotte, e tornerà l'iniziativa a mercoledì donne, con il biglietto a 4,50 euro. Ci saranno anche rassegne speciali, come per esempio i rivediamoli, con il biglietto a 5 euro e abbonamenti da 27 euro validi per 5 entrate. Per gli studenti, al momento, non è prevista una convenzione, ma già a gennaio ci si mobiliterà in questa direzione.